Amici e software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 104esima puntata da Podcast di Marcos Box. Sigla! Indovinate da che cosa inizieremo a parlare in questa puntata? Beh, parleremo ancora di Audacity, perché questa settimana ci sono due notizie riguardanti Audacity che in parte ci tranquillizzano, perché vanno a smorzare un po' tutte quante le polemiche che sono nate a seguito dell'acquisizione da parte di News Group di Audacity e di tutto quello che è successo per via del cambio di policy, della privacy e tutto quanto quello che è nato a seguito della decisione di introdurre una telemetria di base. Andatevi a recuperare le vecchie puntate del podcast o gli articoli su Marcos Box se ancora non avesse avuto modo di leggere nulla al riguardo. Bene, che cosa è successo? È successo che adesso il team di Audacity ha deciso di pubblicare un post di scuse e ha annunciato alcune modifiche di informativo sulla privacy che vanno nella direzione di andare incontro alla community, andare incontro ai dubbi degli utenti e vanno a eliminare tutte quelle parti problematiche. Ci sono alcune modifiche che sono state apportate. Le principali riguardano innanzitutto la formulazione che è stata riadattata per rimuovere l'ambiguità e aiutare la trasparenza. In particolare adesso non viene raccolta alcuna informazione aggiuntiva per l'applicazione della legge o qualsiasi altro scopo. È stato spiegato qual è lo scopo delle due funzionalità di rete, ovvero la signalazione di bug e di errori e il controllo degli aggiornamenti. E' stata rimossa anche la disposizione che scoraggiava i bambini sotto i 13 anni nell'utilizzo di Audacity. Sono stati presi dei provvedimenti per assicurarsi di non memorizzare mai un indirizzo IP completo. Ed è stato riflesso questo cambiamento anche nel documento sulla politica della privacy. E poi sono state apportate alcune modifiche al modo in cui vengono trattate le segnalazioni di errore per assicurarsi di non andare a memorizzare mai alcune informazioni potenzialmente identificabili. Insomma pace fatto quasi e tutte queste modifiche finalmente vanno ad accogliere, vanno ad aiutare a riappacificarsi con la comunità che si era adirata a seguito di tutte le precedenti modifiche, i precedenti annunci e quindi diciamo così all'arma è parzialmente rientrata. Ovviamente visto e considerando che c'è stato un episodio di questo tipo la comunità sarà con gli occhi ben attenti nel monitorare che questo non cambia il tempo a sorpresa o quant'altro. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Nel frattempo comunque il team di sviluppo di Audacity ha fatto anche un rilascio e ha rilasciato la versione 3.0.3 di Audacity che è la prima versione stabile dopo il passaggio di proprietà del software. Che cosa ha fatto in questa nuova versione? Bene, sono stata aggiunta la versione a 64 bit di Audacity per Windows. Ovviamente i plugin a 32 bit non funzioneranno su Audacity a 64 bit. Sono stati fatti dei miglioramenti nello spettrogramma di default quindi con dei colori migliorati in modo da rendere più accattivante, più leggibile. A partire da questa versione poi viene fornito un binario ufficiale per Linux sotto forma di App Imaging in modo tale da poter eseguire l'ultima versione di Audacity su qualsiasi distribuzione senza aspettare che venga aggiornata la versione presente nel riposito della propria distro. Adesso poi gli utenti sono in grado di inviare agli sviluppatori di Audacity i dettagli di un errore grave qualora si verificasse e poi sono stati corretti diversi bug. Se vi fidate ancora di Audacity, se volete continuare ad utilizzare ancora di Audacity potete scaricare questa versione 3.0.3 per Windows, Mac OS e Linux al link che trovate su Marcosbox. Io l'ho scaricata, la sto utilizzando anche in questo momento per poter registrare questa puntata del podcast perché attualmente i fork di Audacity ancora non sono in uno stato avanzato quindi ci sono state fatte queste modifiche è stata limitata per quanto riguarda tutta la parte delle acquisizioni di dati, degli IP e quant'altro quindi mi sento abbastanza sicuro nell'utilizzare Audacity quindi non ci sono violazioni della privacy evidenti per adesso quindi io lo continuo ad utilizzare fino a quando magari non arriverà un fork un fork che vada a eliminare tutta quanta la telemetria e tutto quello che è presente all'interno del software telemetria che ricorda e comunque telemetria di base che serve per determinate cose non per spiare gli utenti però, diciamo così, io per adesso lo utilizzo fatemi sapere voi che cosa ne pensate oltre alle polemiche attorno a Audacity l'altro argomento caldo più discusso all'interno della comunità del software libero open source nelle ultime settimane riguarda la Steam Deck ovvero la decisione da parte di Valve di rilasciare una console portatile che sarà commercializzata ufficialmente a partire da ottobre è disponibile comunque in preordine una console basata su Linux nella fattispecie Steam OS 3.0 basato su Arch Linux con KDE Plasma e mi è venuta un po' la voglia di riprovare Steam io di solito, devo essere sincero tutti quanti i giochi a cui gioco li eseguo lato Windows perché? Perché la maggior parte dei giochi che utilizzo non sono pienamente compatibili con Linux e non provengono dalla piattaforma Steam e quindi di conseguenza per evitare erogne e quant'altro preferisco sempre affidarmi a Windows tanto comunque lo devo avviare anche per altre cose durante la giornata per lavoro e quella mezz'oretta al giorno che riesco a dedicare al gaming la faccio su Windows poi intorno tranquillamente sul mio amato pinguino bene, però come ben saprete grazie a Valve, grazie a Steam è possibile eseguire giochi anche su Linux e adesso ne avremo fra poco fra quel mese avremo una console interamente basata su Linux in grado di eseguire i giochi della libreria di Steam quindi significa che Valve ha investito molto in questo progetto ci crede molto e reputa la sua tecnologia di emulazione diciamo così abbastanza matura da poter permetterne l'uso su larga scala bene, dopo questo grandissimo preambolo su Steam e quant'altro ho deciso di, come vi dicevo di riprovare Steam su Kdeneon in questo caso perché è la distribuzione che sto utilizzando nelle ultime settimane e mi sono andato a installare Steam e ovviamente che cosa dovevo fare? non potevo non trovare dei bug perché sapete bene che i bug scorrono potenti in me utilizzo i driver Nvidia proprietari su Kdeneon sono andato a installare Steam e mi sono accorto che Steam non partiva avviandolo poi da terminale ho avuto alcuni messaggi di errori facendo alcune ricerche mi sono accorto che è un problema legato a una mancanza di una libreria a 32 bit relativa ai driver Nvidia OpenGL che mancava all'interno del mio sistema perché di default non viene installato con i driver proprietari e ne viene installato di default con Kdeneon su Marcosbox trovate la soluzione per risolvere questo problema quindi se avete anche voi un problema simile andate a raggiungere l'articolo su Marcosbox per saperne di più e beh, come non potevo poi riscontrarmi con l'altro problema di Steam perché mi sono ritrovato a dover eseguire alcuni giochi che non sono prettamente compatibili con Linus che erano presenti all'interno della mia libreria e ho detto come fare, come non fare la soluzione è semplicissima la soluzione consiste nell'abilitare Steam Play e Proton all'interno di Steam è una cosa che non viene preattivata di default quando andiamo a installare client di Steam all'interno della nostra distribuzione preferita dobbiamo farlo a mano su Marcosbox vi spiego innanzitutto che cosa sono Steam Play e che cosa è Proton e vi spiego come è possibile abilitare Proton con Steam Play e poter giocare a giochi che non sono pensati per Linux anche su Ambiente Linux nella fattispecie vi ho postato anche uno screenshot di The Binding of Isaac che ho comprato per via del gruppo ristretto dei vecchi amici di Google Plus che ho su Telegram e tutti quanti già, ma parecchie persone di questo gruppo sono in fissa con questo gioco ho detto fammelo provare però ma ieri l'ho comprato e sono state svariate bestiemmie immagino che ci saranno svariate bestiemmie nei prossimi giorni perché è un gioco che è basato sulle bestiemmie è altro che Dark Souls questo è peggio ancora comunque su Marcosbox trovate tutte quante le istruzioni su come abilitare Proton su Steam Play su client di Steam e niente fatemi sapere com'è la vostra esperienza di gioco su Linux grazie a Steam e Proton lasciate magari un commento su Marcosbox sull'articolo dedicato io per adesso ho provato soltanto The Binding of Isaac ma nei prossimi giorni cercherò di darmi da fare con la libreria e vedere tutti i giochi quelli più corposi come girano passiamo adesso alla parte della puntata dedicata ai rilasci delle distribuzioni Linux questa settimana a dirvelo ci sono stati alcuni rilasci di release candidate e di versioni beta di distribuzioni Linux che non ho trattato su Marcosbox principalmente per motivi di tempo perché in queste ultime settimane ho avuto un pochettino da fare quindi non ho avuto tempo di mettermi lì a testare il tutto perché sapete che io ho questa brutta fissa di installare le distribuzioni Linux su partizione fisica perché perché secondo me è il modo corretto di testare una distribuzione Linux non facendola sempre in macchina virtuale perché lì non si capiscono bene eventuali ottimizzazioni fatte e quant'altro comunque ci sono stati rilasci della versione release candidate 1 di Linux Lite 5.6 che è una derivata di Ubuntu che è una derivata anche molto apprezzata e basata su il ramo LTS di Ubuntu utilizza XFCE come desktop environment e affrena una serie di personalizzazioni sia nell'aspetto che nel parco software che sono molto apprezzate da molti di voi all'ascolto c'è stato poi il rilascio della versione beta 1 di MX Linux 21 basata in questo caso su Debian 11 Busai Debian 11 Busai che ancora non viene rilasciato ma verrà rilasciato il prossimo 14 d'agosto in piena calura estiva quindi gli sviluppatori di Debian non temono il caldo a quanto piare MX Linux è molto apprezzata ed è salita la ribalta perché se andate su DistroWatch è la prima distribuzione da ormai da diverso tempo dagli ultimi sei mesi che si piazza sempre in prima posizione ed è una distribuzione basata su Debian che utilizza XFCE come desktop environment principale ma esiste anche una versione con KDE ed offre una serie di tool davvero interessanti per poter gestire al meglio la distro l'altra infine distribuzione che è sempre basata su Debian che è stata rilasciata è Seedaction 21.2.0 che è basata sul ramo quello instabile Seed come rilasciare e presagire il nome che è un'altra distribuzione molto anche apprezzata fateci un pensierino se cercate una distribuzione Debian base e restando sempre in tema Debian questa settimana c'è stato anche un annuncio da parte di una sviluppatrice che si occupa dei driver grafici per i progetti Panfrost e Asai Linux che ha tweetato una installazione di Debian eseguita nativamente su di un Apple Mac Mini con il processore Apple M1 e quindi veniva utilizzata in questo screen nei dettagli che poi sono stati pubblicati a seguito del tweet si parla di un kernel miniline quindi ottime notizie per tutti quanti quegli utenti che stanno aspettando il supporto a Debian o meglio il supporto a Linux per il nuovo processore Apple M1 anche se da quel che ricordo dagli ultimi aggiornamenti di Linux c'è ancora molto da fare però si stanno muovendo stanno facendo stanno facendo i compitini a casa gli sviluppatori che si stanno occupando del porting di Linux sui nuovi processori Apple M1 quindi se solo se fioriranno e speriamo che fioriranno breve negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare di un prodotto lanciato da Jingling Tech il Jingpad A1 il primo tablet arm al mondo equipaggiato con Linux destinato al mercato consumer a far funzionare il Jingpad A1 troviamo un sistema operativo JingOS che praticamente è un fork di Ubuntu con una interfaccia utente ottimizzata per l'utilizzo su dispositivi touchscreen è stata avviata una campagna di crowdfunding per questo tablet è un prodotto premium perché ha un prezzo importante perché si parte la versione base da 549 dollari che sono a cambio attuale circa un 430 euro però offre una qualità costruttiva interessante nonché delle specifiche tecniche che lasciano presagire soltanto cose belle però fino a poco fa nessuno ha avuto modo di poter metterci mano su questo tablet per fortuna adesso sono arrivate le prime video recensioni perché la compagnia che ha realizzato questo dispositivo ha iniziato a inviare a diversi youtuber principalmente sono canali di lingua inglese i primi sample i primi prototipi di questo Jingpanda 1 e su Marcosbox vi ho rincato la prima video recensione che ho trovato su questo dispositivo che è stata pubblicata dal canale TechCat che vi fa vedere un po' vi da un diciamo un'anteprima generale dell'utilizzo dei tablet di come è costruito di com'è l'interfaccia utente dell'interazione sia la touchscreen ma anche con la tastiera perché la recensione viene vi è fatta vedere anche la tastiera e fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo dispositivo a me piacerebbe poterci mettere le mani su però effettivamente il prezzo mi scoraggia da fare l'incauto acquisto speriamo che comunque successivamente verranno lanciati qualche prodotto un po' più economico in modo tale da poter da poterci mettere le mani su da poter fare l'incauto acquisto perché si sapete io sono un nerd sono un utente linux in carito e quant'altro però spendere quelle cifre uno si fa qualche domanda prima e dice perché devo spendere queste cifre per un prodotto che attualmente è un prodotto nuovo un prodotto che non si sarà come verrà supportato e quant'altro a quel prezzo ci sono alternative con software proprietario che fanno egregiamente la funzione di tablet comunque ciò non toglie che è un da questa prima video recensione sembra un un buon prodotto e speriamo che vengano fatti investimenti in questo in questo progetto che si riesca in futuro a portare altri prodotti altri dispositivi di questo tipo con prezzi più contenuti in modo tale da sdoganare linux anche sui tablet ora comunque se Gingli Tech è qui in ascolto vi faccio un appello se volete un recensore italiano imparziale simpatico e chi ne ha più ne metta mandatelo a me non ve ne pentirete ve lo provo volentieri vi trovo io tutti quanti i bug perché sapete i migliettori ormai mi conoscono sono una caramita per i bug quindi se mi date questo prodotto io vi faccio vi faccio da beta testing vi sparmiate mesi e mesi di testing su altri utenti perché vi ritrovo io in 5 minuti tutti quanti gli eventuali bug chiudiamo infine questa puntata con una nota di colore qualche giorno fa ho pubblicato un link a un tweet di stefano zanero che aveva pubblicato uno spezzone di una diretta andata in onda sui canali rai relativa alle olympidi di tokyo 2020 nella quale uno dei commentatori della rai dimenticandosi di avere il microfono aperto ha iniziato a parlare di password e quindi ha iniziato a comunicare a parlare a scherzare ma anche a dire ad alta voce quale era la password della postazione sulla quale si trovava la password del computer sulla postazione alla quale si trovava ed è un spezzone divertente e purtroppo adesso non potete più vederlo perché il contenuto è stato disabilitato in seguito a una segnalazione di un strike di copyright che è stato fatto dalla rai che non ha gradito evidentemente la cosa non so perché e niente ed è una cosa divertente che fa riflettere anche sul fatto che non c'è abbastanza cultura sulla sicurezza da parte degli utenti da parte di chi dovrebbe predisporre anche le password per questo tipo di eventi e quant'altro ricordatevi sempre un appello che vi faccio a tutti quanti scegliete delle password robuste evitate di utilizzare la stessa password su più servizi cambiate spesso le vostre password ogni tot tempo perché le password sono una cosa seria e mi raccomando abilitate anche per i vari servizi l'autenticazione di due fattori qualora fosse presente perché è una manna dal cielo che aumenta il vostro livello di sicurezza informatica e con quest'ultima notizia si conclude qui questa centoquattresima puntata del podcast di Marcosbox vi ricordo come sempre che potete seguire Marcosbox abbonandovi anche ai feed che trovate su Marcosbox potete seguire il sito come più preferite potete seguire la pagina facebook di Marcosbox quello ufficiale potete seguirmi personalmente su twitter su linkedin mi potete seguire sul canale youtube ovviamente potete seguire i podcast di Marcosbox sulle principali piattaforme di diffusione di podcast quindi apple music spotify amazon music google podcast anchor e chi più ne ha più ne metta vi ricordo altresì che potete seguire Marcosbox sulla pagina telegramma ufficiale sul canale telegramma ufficiale di Marcosbox abbinato poi al canale telegramma ufficiale di Marcosbox trovate altri due canali il primo dedicato alla community di Marcosbox dove troverete altri utenti appassionati di linux e non solo perché è una community aperta non si parla soltanto di linux ma si può anche divagare su altri argomenti e trovate anche una pagina dedicata alle offerte di Marcosbox su Amazon sono affidato ad Amazon trovate anche link su Marcosbox se fate acquisti su Amazon sfruttando il mio codice referral Amazon mi riconoscerà una percentuale variabile da 1,2,3% a seconda dei casi a seconda dei prodotti che mi verranno dati indietro da parte di Amazon e mi verranno dati sotto forma di buoni da poter utilizzare all'interno della piattaforma Amazon quindi se già fate acquisti su Amazon e volete supportare il canale è un modo per supportare il canale e utilizzerò prometto che utilizzerò quando arriveranno questi soldini per potenziare un po' l'attrezzatura magari comprando altri harddisc che di sicuro romperò in questi mesi ma anche cercando di potenziare un po' l'attrezzatura per quanto riguarda i microfoni e quant'altro beh lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con una prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao